Un Udinese che torna a Casano una vittoria pesante, che cosa vi ha detto Stramaccioni tra il primo e il secondo tempo? Io non ero in spugliatore quando ho parlato, però sicuramente ha detto che non possiamo accettare la partita come l'abbiamo fatta con Milan, abbiamo fatto vedere un Udinese aggressivo, un Udinese positivo, come abbiamo fatto con il Sessena, anche se era una Coppa Italia fra settimanale, però era un Udinese aggressivo che riusciva a ripartire bene e noi sappiamo che se ripartiamo bene con questa squadra che lascia tanti spazi, potevamo fare male, è vero che adesso però dobbiamo capire che questo secondo tempo lo dobbiamo fare sempre. Sì, no, io penso che il fatto di come siamo usciti con la palla, il fatto che sul primo tempo tante volte buttiamo la pallina avanti senza guardare tanto e poi la palla ritornava sempre e quando giochiamo con queste squadra dobbiamo riuscire a ripartire dalla difesa al centrocampo, dobbiamo ripartire con più qualità e quello che è stato fatto e poi se dopo si crea tutti questi spazi e dobbiamo continuare così e imparare a fare questo dal primo minuto, non è il più facile nel calcio, però presendo alto è la cosa più importante da riuscire a fare.